Il derby siciliano si avvicina, domenica il Massimino andrà in scena Catania-Messina, gara difficile e calda per entrambe. Il momento è delicato, i rossazzuri sono affetti da pareggite, hanno vinto una sola volta l'esordio contro la Juve Stabia e adesso devono tornare a vincere per scalare posizioni in classifica. I peloritani stanno meglio del Catania, ma la sconfitta interna, rimediata contro la Paganese, ha gettato nello sconforto l'ambiente. Messina che al Massimino sarà supportato dai propri tifosi, un'apertura che permetterà ai fans giallorossi di affollare il settore ospiti. Sarà un derby importante, le due squadre lavorano per arrivare al meglio a questa partita. Il Lega Pro sfida molto insidiosa per il Siracusa, che domenica affronterà in casa il Matera, a retus sei penultimi e in grande crisi, avversari che invece puntano al salto di categoria. E' impegno alquanto difficile anche per l'Akragas, che giocherà sul campo del Foggia, primo assieme a Lecce, a Grigentini che dopo aver sbancato nell'ultima trasferta al Massimino, sperano ancora in un'impresa. Grazie. 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 Grazie.